La fine dell'estate è annunciata anche da un poco gradito dagli automobilisti, ma necessario ritorno dei cantieri autostradali. Riparte infatti da stasera, martedì 12 settembre alle ore 22, il piano di ammodernamento di autostrade per l'Italia sulle principali infrastrutture del tratto marchigiano e abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto. Il primo periodo riguarderà esclusivamente il territorio marchigiano, in particolare il tratto compreso tra Pedaso e Grotta Mare nella prima settimana e successivamente le gallerie San Basso, Cupra Marittima, Acqua Rossa, San Cipriano, Castello di Grotta Mare in direzione sud. Nel tratto abruzzese invece i lavori riprenderanno all'interno della galleria Colle Marino Nord tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi e sui viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione nord. Tra Pescara Sud e Vasto Sud saranno operativi i cantieri che riguardano le attività di manutenzione ordinaria come ad esempio la pavimentazione e la impermeabilizzazione della sedime autostradale. Tutti i lavori saranno comunque portati avanti con l'installazione di uno scambio di carreggiata in modo da garantire il traffico in entrambi i sensi di marcia attraverso l'utilizzo di una corsia. La direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia ha anche attivato in questa fase delle squadre speciali a supporto della viabilità per agevolare il transito degli utenti a ridosso dei cantieri. Naturalmente vale sempre il consiglio e anzi l'obbligo di rispettare le regole della guida sicura soprattutto in presenza di lavori in corso. Per esempio bisogna attenersi ai limiti di velocità e alla distanza tra i veicoli. Più in là, concordata con le istituzioni territoriali, ci sarà una nuova sospensione nel periodo festivo che va dal 27 ottobre al 6 novembre.